Musica Musica Ben trovati cari amici di Telesuonano, quante volte volgiamo lo sguardo verso le realtà locali, specie nei frangenti in cui le stesse vivono momenti di grande difficoltà. L'abbiamo fatto soltanto per parlare in questo ciclo e di questo ciclo televisivo qualche settimana fa, portando il sindaco Flavio Stasi, che relativamente alla situazione abbastanza esplosiva di Corigliano e Rossano sul piano dell'ordine pubblico ha avuto modo di confrontarsi con la nostra tribuna. Oggi cambiamo costa perché c'è un'altra cittadina, un'altra realtà sofferente, e con essa l'intero litorale nord-tirrenico. Stiamo parlando di Cetraro, una cittadina importante, strategica per tantissimi motivi, ma che sta passando un momento davvero delicato, un momento fatto di attentati, bombe, ordigni, telecamere di sicurezza che vengono divelte, fino purtroppo allo sfocio di questi giorni fa con l'omicidio di un 46enne, e un pregiudicato Alessandro Cataldo. La situazione di Cetraro è davvero molto triste, molto grave e dovrebbe impegnare le istituzioni seriamente a radicare in quel territorio, in quei territori tirrenici, forze fresche che possano contrastare una serie di organizzazioni che si stanno segnalando per una particolare e criminale attività. Parleremo di Cetraro con il sindaco di questa comunità rivierasca, il dottor Ermanno Cennamo, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito e buonasera ai telespettatori. E con il coordinatore di una serie di associazioni di sodalizie di grande valore che si sta battendo moltissimo per la rinascita civile, legale di Cetraro, il collega Gaetano Bencivini. Gaetano, grazie per essere con noi. Sono contento di essere qui. Sindaco, situazione esplosiva, qualcuno dice. Lei anche ha scritto al ministro Piantedosi all'indomani della barbaro uccisione di Cataldo. Sì, situazione esplosiva che ci preoccupa, che c'erano stati segnali prima di arrivare a questo efferato omicidio. Non si uccideva da vent'anni, nonostante il territorio fosse caldo. Sì, da vent'anni, perché c'erano state le brillanti operazioni da parte della DDA di Catanzaro, da parte delle forze dell'ordine, che avevano arrestato tutte le persone che avevano creato tanta preoccupazione nella nostra città. Da qualche anno, purtroppo, c'è una recrudescenza criminale che noi stiamo segnalando. Tra l'altro abbiamo chiesto con forza più volte a Sua Eccellenza il Prefetto. Abbiamo fatto, se non sbaglio, quattro comitati provinciali sull'ordine pubblico. Tra l'altro uno con un vero Cacetraro dopo il tendato omicidio con il cittadino Guido Pinto. Quindi tutte queste cose le abbiamo sempre segnalate, le abbiamo sempre tenute all'attenzione alta. La città ha sempre reagito in modo forte, perché credo che la città poi si ritrova, sia la chiesa, le tante associazioni, ma anche la scuola. Noi abbiamo i nostri licei che ospitano oltre mille ragazzi, che fanno sempre manifestazione contro l'illegalità, contro la criminalità. Però tutto questo non basta. Tutto questo non basta perché ho dovuto scrivere al Ministro Piantedosi proprio per prendersi in mano la questione Cetraro. Noi abbiamo un presidio costruito oltre dieci anni fa, che è la caserma dei Carabinieri, che è un presidio che è un segnale forte contro la criminalità organizzata. Stiamo gridando proprio a gran voce, vogliamo l'apertura di questa caserma a tenenze dei Carabinieri, perché darà un segnale forte contro quelle che sono... Sono anni che da più parti, anche a livello istituzionale, anche a livello parlamentare, io ricordo anche in questo senso delle interrogazioni di onorevoli, tipo la Bruno Bossio, che andavano proprio nel senso dell'apertura di questa tenenza. Quindi il problema è stato sollevato, visibilizzato a dovere, i locali ci sono. Che cosa manca? Come vi spiegano queste mancanze, questa impossibilità, perlomeno temporanea, di aprire la tenenza lì a Cetraro? Noi abbiamo fatto non so quanti consigli comunali, perché poi il Consiglio comunale, nella sua interezza, non ha fatto distinzione tra maggioranza e minoranza, cioè sull'ordine pubblico si è fatto sempre condivisione, si è fatto rete, che abbiamo portato avanti più volte alla presenza di tanti onorevoli senatori, assessori regionali, presidente di giunta regionale, però non si capisce perché. Questo non si capisce, questo è veramente un dramma, un dramma per la comunità, un dramma per il territorio, perché poi creare, costruire una struttura, vederla lì, vederla chiusa, non si capisce il motivo, ancora oggi non sappiamo i veri motivi, perché non si apre questa caserma di carabinieri, è veramente difficile. C'è da dire che nel frattempo il sottosegretario degli interni, l'onorevole Vandaferro, ha manifestato grande vicinanza e ha detto che si sarebbe spesa per capire di più, per profondere tutte le energie possibili, quindi adesso che la Calabria può anche contare su un sottosegretario degli interni, sebbene noi in passato abbiamo avuto anche un ministro agli interni e quindi questa cosa poteva essere già risolta ab origine, vedremo di andare in fondo anche noi come stampa per capire che cosa c'è sotto, perché a fronte di una struttura che è data, che credo sia anche funzionale, bisogna riempirla di contenuti e di risorse. Gaetano Bincivinni, collega, ma soprattutto coordinatore di una serie di sodalizi. Suggestioni che si chiamano Legalità e Memoria. Gaetano, cosa sta succedendo a Cetraro? Esiste il rischio? Noi appena ci siamo conosciuti, prima di mettere piede nello studio dell'altro Corriere TV, io ho chiesto proprio alla collega Bincivinni, che vive da tanto tempo e con grande passione la realtà di Cetraro, ecco ti ho chiesto se si rischia di tornare indietro, troppo indietro, pericolosamente indietro e quando parlo di percorso ritroso parlo degli anni 80, di quel terribile 1980 dove peraltro venne ucciso lo sardo, insomma. Stiamo rischiando quella cosa là? Diciamo subito questo, che tra gli anni 80 e oggi ci sono notevoli differenze, perché ovviamente sono passati 40 anni e si è creata una sorta di esperienza culturale anche nella nostra cittadina antimafiosa, perché c'è una storia di lotta alla mafia che dura ormai da 40 anni dopo l'assassino di lo sardo, c'è stato nel mondo politico, nei consigli comunali, una forte solidarietà contro ogni forma di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni. Sono state fatte anche tantissime iniziative, hai fatto il genno allo sardo, diciamo che ci sono state edizioni continue culturali con il premio allo sardo che è stato assegnato per tanti anni a personalità di prestigio nazionale, che ovviamente hanno dato un contributo notevole al processo di approfondimento conoscitivo anche del fenomeno. C'è stata anche la DDA di Catanzaro che con Nicola Gratteri ha fatto un lavoro strepitoso negli ultimi anni, ha decapitato la cosca che dominava Cetraro. Anche la bonifica del procuratore Bruni non è da sottovalutare. Sì, complessivamente cito la DDA di Catanzaro perché Nicola Gratteri è stato anche un simbolo di lotta alla mafia, è stato più volte a Cetraro e ovviamente è stata una guida anche con le sue pubblicazioni notevoli che ci hanno dato strumenti anche conoscitivi del fenomeno. E quindi queste sono delle novità importanti che fanno pensare che è difficile che si possa ritornare proprio a quella conflittualità omicida con i tratti distintivi del Far West che c'è stato tra il 79 e l'85. Ecco, che differenza c'è tra quei tipi di criminalità e quello di adesso? Ecco, attualmente si sono create le condizioni analoghe a quelle che c'erano a Cetraro nel 79. Quando c'è stato il primo omicidio nel 79 un certo Romualdo Montagna è stato assassinato e quello è stato un segnale forte che si stava cambiando un po' da parte di queste bande giovanili la strategia, nel senso che si andava verso un salto di qualità che era quella della cosca. Ora, questa situazione si sta riproponendo oggi perché anche in questo momento possiamo dire una fascia di giovani che oscilla tra i 20 e i 40 anni sta cominciando a contendersi, attraverso bande giovanili più o meno organiche, si stanno contendendo il controllo del territorio, le pratiche estorsive, l'attività dell'usura, ma soprattutto si stanno contendendo la gestione del traffico degli stupefacenti. Cetraro rappresenta una sorta di anello di congiunzione tra i traffici che partono dalla, diciamo così, da Gioia Tauro, Reggio eccetera e poi vanno verso il nord e ci sono dei collegamenti da approfondire tra le penetrazioni indranghettiste che ci sono e le penetrazioni camorriste. Quindi c'è una situazione complessa, il fenomeno è uno snodo davvero piccolo, ma non è Cetraro diciamo che è il paese in cui si nota di più questo fenomeno perché c'è uno scontro forte tra, cioè più che un paese di mafia è un paese che lotta contro la mafia, quindi qualsiasi fenomeno noi scendiamo in campo pesantemente, abbiamo il massimo della solidarietà delle scuole, della chiesa, delle associazioni che vigilano su questa, diciamo che complessivamente la società civile è sana e si tratta di contrastare questa penetrazione che avviene attraverso questi giovani più o meno manipolati da queste forze indranghettiste o camorriste che ovviamente controllano il traffico degli stupefacenti. Metti il segnalibro Gaetano perché poi su questa opera che state facendo a livello di sodalizia e di associazioni molto impegnati nel sociale torneremo. Io adesso volgo nuovamente l'attenzione al sindaco Armando Cennamo di Cetraro perché come ci diceva Gaetano Bencivinni è cambiata la qualità delle organizzazioni, è cambiato anche il contesto criminale in questi ultimi 40 anni, Cetraro purtroppo è sempre lì, una cittadina in trincea, una cittadina sulla frontiera del combattimento continuo contro il crimine, sono cambiati anche i motivi di scontro perché prima c'era il pesce, adesso c'è il narcotraffico, di narcotraffico si tratta. Eppure il mercato del pesce che doveva essere l'infrastruttura per un decollo a tutto tondo dell'economia, un decollo vero, un decollo a livello di mercato, a livello anche di civiltà del commercio, rimane lì. Nessuno lo valorizza, o meglio voi come comune, l'istituzione comune cerca di valorizzarlo, però gli appalti per la gestione vanno sempre a vuoto o quasi. Sì, infatti è stato costruito proprio come simbolo contro quel metodo di svolgere l'attività, però purtroppo io da quando sono sindaco ho fatto tre o adesso quattro manifestazioni di interesse per dare la gestione di quel mercato ittico, purtroppo ahimè, dobbiamo dire che sono andato a vuoto, non ha risposto nessuno. Questo infatti ci ha fortemente preoccupato, abbiamo anche trovato delle soluzioni, si era trovato una soluzione che peraltro poi con la prefettura di Cosenza c'era un'associazione di pescatori che avevano interesse a gestire, solo qualcuno di questi pescatori aveva dei problemi giudiziari e non siamo andati avanti e quindi quel tipo di gestione poi non se ne è parlato più. Abbiamo riproposto per capire se c'erano qualche altre imprese interessate alla gestione, ma sono andate tutte vuote. Quindi vuol dire che il condizionamento sul pesce è ancora forte, che cosa può significare se non questo? Io credo che, se non parliamo di condizionamento, perché ormai sono anni, sono passati tanti anni che la gestione è libera, tranquilla, nel senso che i pescatori, i pescherecci vedono che tranquillamente nel porto riescono a fare la propria vendita. Solo dobbiamo trovare l'attrazione, cioè il motivo imprenditoriale che sia molto remurativo per attrarre qualche imprenditore nell'ambito della gestione del pesce, della vendita del pesce che possa essere attratto. Stiamo cercando insieme all'associazione del flag, per esempio, di creare condizioni migliori rispetto a quelle che potrebbe essere solo l'asta pubblica, cioè intorno a quel mercato ittico. Oltre l'asta pubblica si potrebbe fare la vendita, la ristorazione, cioè creare quegli attrattori, perché poi l'imprenditore fa l'imprenditore per guadagnare, non è che fa l'imprenditore solo per prendersi in gestione una struttura e poi non avere guadagno. Quindi stiamo cercando di trovare delle soluzioni che possono essere, dal punto di vista remurativo, importante per gli imprenditori che sono interessati. Questa continua escalation, questa successione quasi difficilmente enumerabile di attentati, incendi, bombe, attentati anche alla sicurezza dei cittadini che non hanno nessun tipo di legame con le organizzazioni criminali. È una lunga scia che va avanti sin dal 2020, anche prima, comprese di posizione continua e da parte dell'associazionismo sano, perché oltre all'associazionismo sano in Calabria abbiamo anche l'associazionismo vetrinistico, in questo caso è un associazionismo sano, ma non per cui Bencivini sia nostro ospite, ma perché per lui e per i sodalizi che rappresenta parla la storia, una storia fatta anche di educazione morale dei giovani. Questa scia, Cennamo, di episodi cui però il tessuto sociale di Cetraro non riesce a fare il callo, questa è una cosa buona, perché quando spaventa una bomba, un ordigno, un mezzo della nettezza urbana come quello che ha preso fuoco credo il 4 novembre, vuol dire che il tessuto è solido, vuol dire che l'indignazione c'è. Questa scia quanto ha pesato negativamente sull'economia rivierasca e sta pesando anche sulle prospettive turistiche? Perché tu parli di Cetraro, parli di Porto, parli di una capitale tirrenica strategica del turismo. Sicuramente, questa è la maglia nera che abbiamo sempre indossato e che non riusciamo a toglierci, la maglia nera dell'etichetta della mafia. Nonostante, lei lo diceva bene, nonostante la reazione, perché c'è una reazione da parte del mondo politico, da parte del mondo della chiesa, delle scuole, delle associazioni, l'abbiamo visto anche in questi ultimi giorni dopo questo efferrato omicidio c'è stata una reazione da parte della cittadinanza, compresi i commercianti. L'11 novembre, per esempio, nel centro storico di Cetraro si è creato un evento così importante, con tante presenze di commercianti, di cittadini, che hanno partecipato, hanno dato vita al nostro centro storico e con tante altre manifestazioni. Abbiamo vissuto insieme alla chiesa e insieme alle scuole durante quella settimana partecipando a manifestazioni contro le legalità perché c'è una reazione, ci sono quei, come dire, quel cordone ombelicare che abbiamo costruito negli anni, perché poi negli anni Ottanta si è sempre fatta la lotta contro la mafia, lo diceva bene il professore Benjamin, Cetraro ha sempre combattuto la mafia, quindi per questo non c'è stato mai un interesse che ha fatto vedere la pubblica amministrazione collusa con la mafia. Negli ultimi vent'anni a Cetraro, come finanziamenti pubblici, abbiamo superato gli 800 milioni di investimenti, la mia amministrazione attualmente ha messo in campo cantieri per 30 milioni di investimenti e di opere pubbliche e grazie a Dio facciamo sempre contratti con la prefettura di Cosenza contro l'imministrazione mafiosa perché tuteliamo super controllati, tuteliamo fortemente le imprese che vengono ad operare a Cetraro, però tutto questo poi non basta, poi non basta perché poi le risposte non vengono, per esempio lei ha parlato del vice ministro nostra Vanda Ferri, io mi sarei aspettato oltre l'intervista una visita a Cetraro, una chiamata al sindaco, una presa di posizione che l'ha fatta pubblicamente con un'intervista a Tg3 Calabria, però ad oggi io non ho avuto risposte, io non ho avuto risposte del ministro, io vorrei capire perché c'è una struttura pronta, chiavi in mano, basta prendere le chiavi e aprire, 30-35 carabinieri possono entrare ad avere alloggi di una caserma costruita, cioè lì si è fatto nel 1889 un cambio del piano regolatore per costruire la caserma dei carabinieri e se noi non diamo queste risposte, i cittadini poi si rinchiudono. Tra l'altro è una tenenza che avrebbe poi la possibilità di spiegare gli effetti su tutto il territorio. Poi ai cittadini si rinchiudono, una città a vocazione turistica che dovrebbe esplodere per le proprie potenzialità, lei citava il porto ma non solo il porto, noi abbiamo Palazzo del Trono dove all'interno c'è un bellissimo museo, c'è una biblioteca e abbiamo un centro storico, uno tra i più bei centri storici della Calabria, quindi abbiamo delle grandi potenzialità, però tutto questo da soli, noi facciamo la nostra parte ma vorremmo l'aiuto dello Stato. Nell'ultima riunione che ha convocato il prefetto proprio all'indomani del drammatico omicidio a Cetraro, credo che però ci sia stata l'intenzione e l'intenzione poi sarà stata anche tradotta infatti di inviare dei reparti speciali delle forze dell'ordine, questo comunque, Sindaco, è già una prima risposta? Sicuramente, sicuramente lo vediamo con le presenze delle forze dell'ordine, ci sono questi reparti speciali che stanno venendo a Cetraro, sono invisibili. Ed è giusto che siano così. Sono invisibili, però ci sono anche le forze dell'ordine che quotidianamente, costantemente stanno presidendo. Però il problema è sempre quello, se non si apre la tenenza anche come simbolo, come monumentum visivo, reale, di forza dello Stato, poi è chiaro che determinati risultati stentano a diventare realtà. Peraltro, lo dicevamo prima, è una tenenza che potrebbe dispiegare i propri effetti anche simbolici su altre realtà critiche della costa tirrenica, dell'Alto Tirreno, Belvedere, situazioni che sono abbastanza calde. Gaetano Bencivini, perdonami la domanda rognosa, tu insieme al sindaco ci tieni a sottolineare che questa società civile di Cetraro è sempre sul fronte che combatte la criminalità, ma si è perso negli ultimi 40 anni qualche anello, perché Cetraro è diventato lo snodo, il momento addirittura di collegamento tra andrine e cellule camorristiche per lo sviluppo del mercato del narcotraffico. Poi questo come si spiega, come si concilia con la qualità sana della società cetraresse, come si concilia tutto questo, Gaetano? Io intanto dico due cose su... Ci diamo del tu perché il professore è un collega e non riesco a dargli del lei. Siccome si è parlato di centro ittico e di caserma, perché queste due realtà sono importanti? Perché entrambe sono... Il centro ittico continua a rappresentare il simbolo della persistente vitalità della mafia, perché è tradizione, il centro ittico si è costruito proprio per restituire al mercato del pesce la legalità che prima non c'era e tuttavia per ragioni di attrattività, come dice il sindaco, ma anche per motivazioni che vanno approfondite, ancora rimane là e viene avvertito dalla città come un fallimento dello Stato, perché lì abbiamo una struttura costruita con i soldi della regione e che non è funzionale e quindi chiunque dice ma qua è va ed è sta deferendo e quindi dice come è possibile che si spendano i soldi per mettere a posto una struttura e regolamentare il mercato del pesce e nessuno partecipa, quindi questo apre interrogativi anche inquietanti. Dall'altra parte c'è pure quest'altro simbolo che ormai parte da anni, sono troppe anni, la gente li vede, perché non si apre la caserma dei carabinieri, perché è importante? E' importante perché noi siamo nella fase in cui il problema della lotta alla mafia non è soltanto culturale o di impegno sociale, ma è anche nella sua fase repressiva che deve essere forte, perché chi domina a Cedrario non è l'alta mafia dei colletti bianchi, ma dominano bande giovanili che in questo momento cercano di fare la scalata per diventare loro gli organizzatori della malavita e nel controllo del traffico degli stupefacenti. Da ciò la necessità di un'azione repressiva forte, mirata, ma l'azione repressiva non si fa con il numero dei poliziotti, con il numero dei carabinieri soltanto, ma si fa con le competenze investigative, per cui basterebbero marescialli che abituati ad intervenire in realtà a forte densità mafiosa, spostarne alcuni nel nostro territorio per coordinare un'azione di contrasto alla mafia, che non può avvenire soltanto quando c'è l'omicidio o soltanto quando c'è la rapida. Gettano, scusami, ma nel frattempo ci siamo persi qualcuno durante questa traversata dagli anni Ottanta ad oggi nella lotta contro la mafia locale? Io dico che ci sono stati alti e bassi, ma complessivamente la società civile ha sempre risposto in modo compatta. Tieni presente che l'ultimo omicidio, che è avvenuto qualche mese fa, con chiaro stampo mefioso, analogo, l'ultimo è avvenuto nell'85, che ha chiuso il ciclo della conflittualità omicida. In questo arco di tempo la società civile non è rimasta a guardare e dire il problema è finito, ma mentre la società civile ha organizzato eventi su eventi, io ti voglio solo dire che ci sono stati, per esempio dal 2000, lo dico perché ero io il presidente del laboratorio Losardo, dal 2003 al 2019, in interrottamenti, ogni anno c'è stato il premio Losardo per ricordare non solo la figura di Losardo assassinato dalla mafia negli anni Ottanta, ma anche per avviare insieme agli scrittori, ai giornalisti, ai magistrati che sono venuti a Cetraro, un'analisi comune per conoscere le dinamiche della mafia. La mafia cambia pelle, la mafia si trasforma e noi dovremmo trasformare anche le nostre strategie di attacco contro la mafia. E' sempre stato un osservatorio. E' costante. Allora siccome la mafia è un fenomeno complesso, che non è soltanto la parte dell'ala militare, quelli che sparano, quelli che minacciano, che fanno ma... Dietro c'è pure una mafia che si afferma e quella in cui c'è la cultura mafiosa. Ecco, la cultura mafiosa, a Cetraro, non c'è. Nessuno si vante di essere amico dei mafiosi, a Cetraro. Tutti quanti potrebbero anche avere paura quando si verificano episodi di questo tipo, ma non c'è la logica di quei paesi in cui c'è una tradizione culturale mafiosa, anche la persona per bene assume atteggiamenti di disponibilità a discutere con il mafioso, oppure si vante di essere un mafioso. Lì è un motivo di offesa, insomma, se uno dice io sono un mafioso è un'offesa. Cioè questo fatto è un valore importante che noi abbiamo tutelato nel corso di tutti. E che bisogna far risaltare in questo frangente. Infatti attraverso, io voglio solo dire che noi, a Cetraro ci sono tante associazioni, tante associazioni, io ne coordino sette associazioni cittadine, che hanno nei loro programmi culturali iniziative di presentazione di libri che parlano di mafia. Solo per dirne una, quest'anno noi abbiamo presentato ogni mese un libro con personalità di prestigio nazionale. È venuto Claudio Martelli a gennaio, è venuto il generale Angelo Pellegrini a Cetraro, a presentare il suo libro. Sono venuti scrittori calabresi che si occupano di mafia, scrittori di mafia, come Mimmo Gangemi. E questo lo facciamo con continuità. Anche il premio donna è stato assegnato a un vicequestore. Il rapporto che c'è tra Cetraro, la questura, le forze dell'ordine e tutte le personalità che si occupano di questo fenomeno è continuo. Però bisogna esaltare in questo momento questi valori, e non lo dico così, scusami Gaetano, perché quello che mi avete spiegato e che avete spiegato ai nostri ascoltatori prima è davvero probante, io direi indicativo. Quando abbiamo parlato del mercato del pesce a fronte di una struttura moderna, lo diceva sia il sindaco sia lo stesso Gaetano Bincivinni, quella struttura, per quanto possa essere funzionale, è diventata a suo malgrado un simbolo della persistenza mafiosa sul mercato del pesce, ingenerando un pregiudizio. Questo pregiudizio ha fatto fuori tutti i potenziali soggetti che potrebbero gestire questa struttura. Quindi il mercato del pesce è scomparso dalla cartina geografica commerciale. Stiamo attenti in questo momento perché così come il pregiudizio ha indotto questa cancellazione del mercato del pesce, nonostante una florida economia ittica, potrebbe fare la stessa cosa sul versante turistico. E allora questo è il momento per incidere in maniera forte con le associazioni e con l'azione anche amministrativa e della politica. Perché sindaco, le dico così, perché in un momento del genere le forze politiche, maggioranza e opposizione in qualsiasi contesto dovrebbero davvero unirsi promuovendo esperienze di governo, di salute pubblica. Beh, a leggere la rassegna stampa in questi giorni invece il quadro è avvilente perché mi sembra che ci siano schermaglie, mi sembra che ci sia una dialettica indegna di un paese come Cetraro sul bene e sicurezza che dovrebbe mettere insieme tutti. Perché litigate? Non è facile... L'opposizione dice che per esempio il bene e sicurezza pubblica non è al centro della sua agenda politica. L'opposizione le dice tanta. Quella che mi preoccupa è che dopo un effettato omicidio si fa in modo spregiudicato, diciamo, una polemica addicente a delle motivazioni che Cetraro non fa la lotta sull'ordine pubblico in modo adeguata, oppure c'è qualche contrada che è senza luce. Capite bene che se i motivi di una comunicazione per prendere qualche voto in più sono questi è avvilente fare... Si vota tra due anni da voi? Si vota tra due anni. Allora io credo che di fronte a questi fatti certamente le forze politiche ma anche i movimenti perché poi le forze politiche e i partiti ne sono rimasti pochi, ci sono ormai tanti movimenti, per esempio la maggioranza che mi sostiene è una lista civica formata da qualche partita e da più movimenti, dovrebbero ritrovarsi veramente tutti uniti come abbiamo sempre fatto, perché quando all'indomani succedono questi fatti efferrati tutti siamo d'accordo per iniziare un percorso, anche di fare ragionamenti che vanno oltre quello che sono le maggioranze e le minoranze, ma poi quando si aprono i tavoli vengono fuori i nodi, come si suol dire. Gli eccessi di protagonismo, no? Bravissimo. Quindi Cetlaro purtroppo, ahimè, nonostante la disponibilità perché credo che per quanto mi riguarda come sindaco ma anche la maggioranza che rappresento abbiamo sempre fatto discorsi inclusivi e mai di chiusura, non solo sull'ordine pubblico noi abbiamo fatto per esempio ultimamente una commissione paritetica sulla sanità paritetica per dire quando siamo aperti e abbiamo sempre fatto, abbiamo messo sul tavolo quello che erano anche i fondi PNRR di creare una campina di regia. Gli slogan che hanno fatto le minoranze sembravano andare verso questa direzione di condivisione, di essere tutti uniti poi ci siamo sempre seduti e si sono create divergenze e polemiche di basso profilo, lo chiamo, perché nel momento in cui c'è un omicidio e in modo spregevole si parla della luce che non prende o di un piccolo allagamento e una piccola contrata, significa che non si vuole bene la città che non si vuole bene la città. Nonostante queste schermaglie, queste polemiche, ripeto, che non ci stanno né da parte della maggioranza né della minoranza, il periodo è troppo difficile ed è troppo anche cruento per poter ipotizzare campagne elettorali, questo lo dico un po' a tutti quanti sul bene sicurezza pubblica. Ci sono ancora margini per poter pensare ad un fine mandato con elementi nell'esecutivo comunale di più estrazioni, quindi a questo governo cittadino di salute pubblica, di protezione dei cittadini? Io credo che la politica sia intesa come servizio, come andare a trovare soluzioni per il bene comune e sembra disponibile a fare atti che migliorano la situazione, certamente a questo si devono trovare l'unità di intenti tra le varie forze politiche, mi sembra che da parte delle minoranze c'è sempre stato un contraddittorio, un progetto alternativo a chi ha vinto le elezioni, io credo che se facciamo le elezioni è perché i cittadini decidono di chi farsi governare, se poi nel prosieguo dell'attività amministrativa ci sono miglioramenti o c'è la possibilità di includere forze, per esempio oggi che abbiamo aperto il tavolo c'è una forza delle minoranze, parliamoci chiaro di Forza Italia, che ha partecipato al rilancio del programma 23-25, e ha partecipato a questo programma, cioè chi dà questa possibilità per quanto mi riguarda siamo aperti a qualunque confronto, ma deve essere un confronto leale, deve essere un confronto che deve guardare al bene comune, al bene della città proprio in un momento difficile, se questo noi lo verifichiamo e si verificano non con gli slogan, perché gli slogan c'è chi è bravo a farli, però poi devono essere portati avanti con la determinazione, con la concretezza di quello che ogni giorno noi quotidianamente viviamo. quindi se ci sono queste condizioni, il SIRSID, ma anche la maggioranza che mi sostiene, è aperto il tavolo e sembra aperto. Gaetano Bincivinni, le associazioni dialogano con la politica, cercano di sensibilizzare la politica sull'opportunità di fare un vero fronte comune? Guardi, c'è un'idea che è partita dalla politica e che corrisponde a quelle che sono le esigenze delle associazioni cittadine, che è quella di un comitato unitario antimafia. L'idea è partita dalla politica, il comitato unitario antimafia era stato uno strumento fortissimo negli anni Ottanta, che aveva messo insieme, immaginate, il PC dell'epoca con il movimento sociale, cioè dentro un comitato unitario antimafia, in quel contesto a forte ideologia, perché oggi sarebbe più facile. In quel contesto si sono messi insieme partiti, ovviamente in netta contrapposizione, hanno dato vita a manifestazioni importanti. voglio solo ricordare quella che si è fatta l'11 gennaio del 1983, che ha visto per la prima volta nella storia di Cetraro, ma credo anche dalla Calabria, il segretario regionale del PC, Fabio Mussi, con il vescovo dell'epoca, un signor Lauro. Ed è stato quello un segnale fortissimo per l'opinione pubblica, perché hanno partecipato. pensate, 3.000 persone guidate dalle vedove della mafia, ovviamente tutto questo è stato un segnale fortissimo che all'epoca abbiamo mandato all'opinione pubblica. Oggi la situazione non è analoga a quella, perché non ci sono più le ideologie, c'è la possibilità di collaborare, eccetera. Noi abbiamo dato vita a una rete delle associazioni cittadine che hanno l'obiettivo di intervenire nel settore della cultura e della formazione. e noi riteniamo che in questo contesto la cultura è fondamentale per una lotta consapevole contro la mafia. Qualcuno negli anni passati diceva, vogliamo battere la mafia, mandiamo un esercito di maestri, mandiamo cioè la formazione, la cultura della legalità, perché è fondamentale, perché è il vaccino contro questo cancro che affligge non solo Cetrano, ma non dimentichiamo che l'Andrangheta in Calabria è la più forte mafia del mondo, presente in ogni angolo del pianeta e la matrice è qui. Quindi immaginate quale avversario la Calabria deve fronteggiare. E naturalmente ogni paese è vittima di tutte le azioni che si stanno sviluppando all'interno dell'Andrangheta. Che l'Andrangheta non è più come era prima, cioè l'Andrangheta ha cambiato pelle. Ora l'Andrangheta è fatta dai colletti bianchi, l'Andrangheta interviene, diciamo così, nell'alta finanza e si spostano milioni di uccelli. Basta leggere... È una criminalità più manageriale. Esatto, il manageriale non solo, ma ora si sta anche misurando con la nuova frontiera di internet, con le scommesse online, con il gioco d'azzardo online e tutto questo ci fa pensare che non basta più fare i discorsi classici che si facevano contro la mafia, ma bisogna approfondire le conoscenze del fenomeno, perché c'è il rischio che possiamo anche colpire il bersaglio sbagliato. Ora, quello che c'è a Cetraro non è questa alta mafia dei colletti bianchi, lo voglio sottolineare, ma si tratta di bande giovanili che possono essere stroncate sul nascere da un intervento dello Stato in modo repressivo con personalità competente che sa indagare sul fenomeno mafioso e sa come intervenire contro episodi che sono rivelatrici di una conflittualità che ovviamente non è riconducibile al classico ladro di polle o alla classica rapina, ma ci sono tanti interessi che si muovono e che richiedono competenza, perché competenza nell'indagare, cioè quello che bisogna fare per dirla con Falcone è seguire la via del denaro. E le vie del denaro porteranno sicuramente a buoni risultati se ci sono nuclei specializzati e punti di riferimento visivi. Esatto, una caserma formata da persone che sono abituate a lottare alla mafia sarebbero da soli in grado di eliminare questo fenomeno che è, diciamo così, non ha assunto ancora quei tratti distintivi dell'alta mafia neanche in tutto il terreno cosentino, ma sarebbe sufficiente per stroncare questa fase, diciamo nascente, perché questa fase è la fase selvaggia, cioè la fase in cui si scontrano e si ammazzano tra di loro. Quando non si ammazzeranno più tra di loro la situazione ancora sarà peggiore, perché evidentemente... Perché ci saranno equilibri già consolidati. Perché la mafia non è che vuole fare violenza, la mafia vuole fare affari e l'affari si fanno meglio se non ci sono le forze dell'ordine che li fanno a... Una Pax è venuta meno, dice Gaetano Bincivini. Adesso ci sono queste gang che cercano di impadronirsi e di contendersi il territorio. Ora vanno beccate. Esatto. Ora vanno ingabbiate. E ora è possibile. Ecco perché noi insistiamo sulla caserma, insistiamo sul centro ite, perché sono dei segnali forti anche di sicurezza. Pensate a tutte le attività commerciali. Ci sono commercianti che stanno, avevano o stanno... certo hanno subito i danni fortissimi del Covid, hanno subito i danni che li hanno messi in ginocchio. Allora a questo punto qual è il pericolo? Che siccome i soldi in questo momento in tasca e ce l'hanno solo loro, possono riprendersi piano piano il controllo del territorio perché potrebbero diventare gli usurai, potrebbero diventare quelli che aiutano le imprese in questo momento e potrebbero riappropriarsi del territorio e diventare i punti di riferimento loro. Ora siccome questa è una fase di transizione molto delicata, se lo Stato sottovaluta o trascura la fase, così come sta facendo, perché di fatto se non apre una caserma e non mette a disposizione tutte le competenze di cui dispone in questa fase, dopo sarà troppo tardi. Perché poi la gang prevalente si farà cosca, si farà equilibrio e si farà anche colletti bianchi. Sono d'accordo. Questo è il dramma che noi stiamo vivendo. Assolutamente calzante. Sindaco Cennamo, lei manifestava il dispiacere per il fatto che dal governo nazionale e dalle istituzioni nazionali in genere non siano arrivati i segnali che auspicava. La regione invece come ha reagito? Lì ci sono consiglieri regionali, immagino la provincia di Cosenza è una provincia molto ampia, ci sono dei punti di riferimento, c'è un governo regionale. C'è un'interlocuzione con le istituzioni calabresi, le più principali o anche da lì i segnali non sono stati molto buoni? Devo dire che da quando ci siamo insediati... Col Presidente Occhiuto si sente ogni tanto? Sì, spesso, spesso perché nonostante di diversi... rappresentiamo politicamente partiti diversi, però devo dire che ho avuto l'opportunità di incontrarlo più volte su tematiche importanti come per esempio il Porto, lo sapete benissimo, il Porto di Citraro ha il problema dell'insabbiamento. devo dire che per ben tre anni è intervenuto a livello economico per darci la possibilità di tenerla aperta, perché il Porto nostro di Citraro è il cuore pulsante dal punto di vista economico della nostra attività. Abbiamo già pochissimi sulla Tirrenica, se si insatte a Citraro ragazzi. E quindi devo dire che ci è stato sempre vicino, ultimamente ci sta stando vicino anche dal punto di vista sanitario, perché stiamo cercando di aprire il punto nascita all'ospedale di Citraro, che è chiuso da oltre quattro anni e quindi l'interlocuzione... È possibile interrompere lo svilimento del punto di riferimento sanitario di Citraro? C'è una controtendenza? Si registra? Abbiamo messo in campo strumenti importanti, perché 11 anni di commissariamento nella sanità calabrese ha demolito la sanità pubblica, diciamolo che non è l'ospedale di Citraro soltanto. Credo che quasi tutti gli ospedali calabresi hanno subito in 11 anni di commissariamento lo svuotamento dei reparti, dei medici... Ma poi lungo la Tirrenica c'è stato proprio l'assassinio scientifico del diritto alla salute. Oggi posso dire che con la quante commissario il presidente Occhiuto c'è un'interlocuzione con lui, ma anche con i commissari provinciali che hanno messo in campo per mettere in moto quello che si è perso in 12 anni. Certo, non è facile rimettere mano alle macerie che hanno trovato, bisogna piano piano ristabilire intanto dal punto di vista di quello che erano lo svuotamento dei reparti e delle risorse umane. Noi non abbiamo medici, non abbiamo infermieri, non abbiamo... cioè ormai si sono svuotati chi c'era o è andato via o è andato in pensione. Allora tutto questo dobbiamo cercare di fare squadra perché poi sparare contro il morto come dire, non è cosa semplice. Ogni istituzione sovracomunale può e deve fare la propria parte perché Cetraro è vero, ha dei buoni anticorpi ma da sola non può andare da nessuna parte. La caserma non se la possono aprire, riempire di contenuti i cittadini di Cetraro, l'ospedale stesso non lo possono rilanciare loro così come altre infrastrutture, quelle portuali, quella relativa al mercato del pesce. C'è bisogno di dare una mano ad una cittadina, guardate, rimettendo in sesto la quale è l'intera costa tirrenica che potrà averne vantaggi. In chiusura, è così Gaetano? Sì, diciamo subito questo, che se risolviamo il problema di queste bande giovanili, non risolviamo i problemi di Cetraro soltanto, ma di tutto il terreno cosentino come hanno dimostrato le due operazioni, Frontiere e Catarion, che ci hanno fatto capire che viene interessato tutto il territorio, cioè da Cetraro, Belvedere, da Praia Mara, da Mantea, tutti sono collegati e questo è un elemento importante. Quello che volevo sottolineare, ci siamo incontrati come associazioni, come associazioni cittadine, legalità e memoria con il presidente dell'Antindrangheta regionale che ovviamente ci ha assicurato tutta la sua disponibilità, però ha evidenziato un dato che in un certo senso ci ha un po' preoccupato, cioè la carenza di fondi di cui dispone appunto la commissione anti-Antindrangheta, parlava di 130 mila euro per fronteggiare il fenomeno dell'Antindrangheta in Calabria, mi pare come voler curare il cancro con un aspirino. Beh, è una dotazione sicuramente insufficiente. Inadeguata, quindi un segnale forte potrebbe venire da lì. Però il Consiglio Comunale, una mozione, siccome di mozione che poi hanno un effetto nazionale, ne vengono votate parecchie anche su argomenti non sempre molto importanti, ecco, una mozione che dia l'impulso giusto al Ministero dell'Interno, al Governo italiano ad occuparsi di questa ferita, no? Perché la chiusura permanente, o meglio la non apertura di quella tenenza è una ferita alla legalità. Una mozione il Consiglio regionale della Calabria può e deve farlo. Io mi appello anche al Presidente Filippo Mancuso che è un'anima sensibile di quella Sise. Grazie Gaetano, grazie Sindaco Cennamo, grazie a voi, speriamo di avere dato un contributo alla chiarezza su una cittadina importante che deve tornare ai livelli importanti di un tempo. Arrivederci. Grazie. grazie